ciao come va sto facendo un po di ragù qui e festa oggi non so se ve l'avevo detto sì che un bel che lungo siccome dopo devo uscire fatto tutto quello che dovevo fare stamattina perché anche se posso dormire ormai l'orario non riesco a dormire vabbè ho appena visto un video di tontolo corno tontolo e a parte che continuano imperterriti a offendere non è che dice aspettate un attimo che metto la chat lenta o aspettate un attimo che mando le notifiche o aspettate un attimo che metto modalità solo iscritti no aspettate che metto il guinzaglio un attimo il tempo metto la museruola ma la museruola chi sozzo lurido a chi ma museruola metti la tua moglie sta cinghialona poi comincia col copione scritto dalla cinghialona stesse parole che ha detto lei farneticando nelle live precedenti e comincia a offendere di qua e di là mi devo calmare un po se no non dico niente e non si capisce un tubo di quello che dico come come sono nella vita reale sono così comincia a offendere sei questo sei quell'altro sei questo sei quell'altro a fate però vabbè si sa lei non è che ha paura si sa difendere molto bene ma poi continua e dice ah perché quei quattro boccaloni che ti credono quei scappati di casa perché solo come te seguono le tue live gli scappati di casa ma scappati di casa chi sozzo lurido intanto comincia a lavarti ha detto a denis non si lavava le unghie nere si lavava le mani con la mucchina ma vi siete visti voi due che siete l'unto potete fare pubblicità mister unto qui mastro lindo si chiama mister proprio e tu puoi fare potete fare benissimo gli sponsor per mister sal che vuol dire mister sporco luridi siete luridi voi e avete la casa che quale discarica meno la discarica con la differenziata c'è non ci sono più quelle cave a cielo aperto invece voi ce l'avete in casa zozzi ma la cinghialona di tua moglie che alza il culo e la mattina fa le pulizie mette a casa fa da mangiare io come tantissime donne perché non è che io sono io sono come tutte mi sono alzata alle 5 45 mi sono fatta tranquilla la colazione e poi mi sono messa ho cominciato dal bagno l'ho fatto a fondo e poi sono venuta avanti di qua ho fatto da mangiare adesso vedo cosa fare perché mi ha chiamato la persona che aveva appuntamento alle 4 ha detto se posso anticipare io ho detto sì sarebbe anche meglio per me vabbè c'è sporco e di qua e di là c'è tua moglie che piscia nei terrazzi degli alberghi e tu chi ami scappati di casa a noi anch'io visto la live di fate non in diretta l'ho vista perché lavoro vedo quando posso e quando voglia perché ci sono tante sere che entro guardo solo cellulare per i miei miei figli per i miei figli dopo di che cellulare per me e quando vado a letto mi guardo un po di tik tok per ridere però guardato perché volevo capire bene cosa era successo e io sarei una scappata di casa io l'ho detto tante volte più di 50 anni e ringrazio dio sai quante volte mi sono rialzata mi sono tirata sulle maniche e ho ricominciato tante volte tante 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 è per quello che non mi spaventa niente nessuno zecche poi c'è là anche quell'altra con chi fa no aspettate stavo dicendo piscia sui terrazzi di degli hotel caga da mezzo alla strada in mare prende la merda in mano e la butta nelle barche c'è ma caga dentro il porto oggetti della macchina che poi non è neanche vostra gliela riconsegnate con la merda nel porto oggetti ma hai anche coraggio di parlare degli altri ti presenti live tu come uno scappato di casa czozzo lurido spettinato con la barba da fare non fai un cazzo tutto il giorno io quando ho sentito queste cose volevo niente volevo rispondere se ci fosse una video un audio chiamata per rispondere avrei fatto subito noi scappati di casa ripeteva tutte le parole tutte le parole che gli ha scritto la dolce con l'angelo caduto dal cielo ripeteva e poi cosa stavo dicendo mi sono dimenticata sì che dà degli scappati di casa a chi guarda che dà dello sporco a denis ah ce l'ha con chi fa le liste amazon che ognuno fa quello che vuole io pure ho il mio pensiero ma lo tengo per cioè siccome non sono cavoli miei non è che vengono a chiedere qualcosa a me non è che prendono qualcosa a me non è che sì che ognuno fa quello che si sente di fare noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo ma esprimiamo un nostro concetto non è che diciamo tu hai la lista amazon sei una catona e tua moglie e tu cosa fate voi non fate le liste amazon voi andate direttamente dal produttore al consumatore voi gli chiedete direttamente i soldi che poi non restituite lazzaroni delinquenti e adesso mille 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 scuse per non ridare i soldi a quel ragazzo sono 300 sono 400 sono ma fossero anche 20 euro se te li presto me li ridai cinghialona me li ridai no che vai da primark o vai a prenderti le schifezze puoi prenderti quello che vuoi coi tuoi soldi prima mi ridai i miei poi puoi prendere anche tutta primark che a me non me ne fotte proprio mi ha fatto inviperire il video di stamattina e io l'ho attaccato finché facevo le pulizie per così mi tenevo un po mamma e offese ma dove cazzo siete trollini continuate lo sciopero cioè offese tu vai via e quell'altra e lucifera in parte qua e quando mi ha fatto quando prendeva in giro denis faceva ascoltare gli audio che è violazione della privacy se non lo sai faceva sentire gli audio diceva lo prendeva in giro perché piangeva e lucifera quando stamattina il tontolo diceva alle lacrime finte no ma tua moglie vi ricordo ti ricordo perché noi ci ricordiamo stavo per dire vi ricordate ma noi lo sappiamo ti ricordo che tua moglie quando era incinta di un calcolo renale è uscita sarà forte sarà forte perché il mio piccolo guerriero ce la farà ce la farà il piccolo guerriero era una scorreggiona intrappolata era un po' ostruita e appena la mollata che ha fatto la permanente al ginecologo ciao piccolo guerriero è uscito un grande peto è uscito un grande peto ti ricordo che tua moglie piangeva quando era stalkerizzata dal giusto no perché lasciatemi stare perché giusto mi fai così perché lacrime finte perché il giusto era in combutta con lei non esiste cioè esisteva chissà chi era eh quando è andata all'incontro col giusto che voleva prenderci per il culo e poi io gli ho scritto subito l'ho sgamata dopo due secondi che non era un vero incontro la voce era registrata e poi diceva sì era uno scherzo ma si sapeva chi è che non l'avrebbe scoperto brutta falsa 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 e falsa sei falsa anche nelle buddella perché vedi scorreggiano a tua insaputa falsa scorreggiona falsa e col giusto piangeva l'altra sera che piangevi con le la a secco mi ha violato e poi prendi per il culo Danny se lo fai eh fai vedere che lui piangeva e tu stessa cosa che abbiamo fatto noi quando tu piangevi mi ha violata finta senza lacrime e Lucifera in parte ha detto che è facile fate ha detto che cosa ci vuole a piangere per finta allora anche lei è una brava attrice si come tua figlia come tua figlia come tua figlia quante volte ha pianto in live finta quante volte quante volte durante le live due comunque continuate con sto sciopero perché non non si possono sentire sti due zeche sporchi che continuano a offendere cosa offendi un'altra cosa un'altra cosa hai detto che vai canale 5 lei e tutto quanto vai vai questa volta te lo giuro io te lo giuro io perché a me a me è stata fatta una cosa una cosa che non dirò mai lo sa solo una persona neanche i miei figli lo sanno perché ho passato l'inferno in terra per dieci giorni e poi vi ho sempre detto io ho una fede smisurata credo infinitamente a Dio pregavo Dio e ci sono riuscita a smascherare voi non sapete le notti in bianco per smascherare questa persona ci sono riuscita e Dio per l'ennesima volta questa persona dopo che è stata mascherata e e ha avuto vabbè doveva sposarsi una settimana prima è stata mollata sull'altare perché perché mesi dopo si è sposata col suo cugino primo cugino perché la si usa così dopo cinque mesi cinque mesi voi sapete che i primi cinque mesi in un matrimonio c'è ancora il miele che cola da tutti i pori l'ha mandata a casa in taxi neanche accompagnata l'ha rimandata a casa e con le sue diciamo cose in parte dentro due sacchi neri dell'immondizia Dio è grande e basta per cui le ingiustizie a me fanno venire sangue blu cioè tu vai alle iene e dici quello che ti è successo bene dopo di che ci sarà chi farà sentire i tuoi audio belli educati ma tu dirai eh ci siamo difesi eravamo eravamo avvelenati ci siamo difesi perché in quel caso là il video che è stato fatto sentire era per la regina bastarda ma a quel punto ci sarà qualcuno e io darò manforte che farà sentire perché la regina bastarda ti ha detto certe cose farà sentire te che ti sei alleata col giusto e prendevi per il culo una bambina di 20 giorni che non ce l'ha fatta purtroppo ho i peli d'oca e tu hai fatto un video schifoso su una bambina per ferire la madre vai vai alle iene perché ci sarà chi farà sentire addirittura io dovrei avere non lo so perché ho cambiato il telefono ma sono sicura che che grazia ce l'avrà il video dove dove qualcuno che dove facevi vedere proprio la foto e poi il giusto è sparito puff e anche la piangevi piangevi che non eri tu la voce e logicamente l'avrai ricattato con telefonate telefonate fai un video di che sei tu di che sei tu che imitavi la mia voce eh ci crediamo tutti sai contaci contaci ti ricordo lucifera che tua figlia piangeva quando ha augurato la morte a blues l'ha giurato sui gemelli e beh giustamente se tu mandi la tua hai detto la tua storia alle iene o a chi per essi o a qualsiasi altro media è giusto fai vedere tutta la tua storia così farai vedere i gemelli dirai in televisione che tu eri incinta di due gemelli a tre mesi cinque settimane a quanto cazzo eri e uno alla volta si sono riassorbiti senza raschiamento a loro darai le prove perché se tu fai vedere la tua storia che poi hai detto diventerai ancora più famosa darai anche gli audio dove dicevi blues sei un pezzente devi morire punto non è il dimenticatoio falsa non c'è devi morire e poi hanno interrotto il video devi morire punto darai tutto questo perché ci sarà chi lo darà ti voglio dire una cosa Dennis anche se non sentirà il video non non importano non credere che lei perché adesso hanno in bocca la legge farà il suo corso denuncia mamma incorporiamo la denuncia la legge farà il suo corso andrà a vanno dai tuoi genitori stai tranquillo stai tranquillo che non si può azzardare a parte che non può denunciarti per niente perché anche lei continua a registrare telefonate ha registrato la telefonata con Giovanni ha registrato telefonate con tutti con te poi le fa sentire sì che denuncia cosa qualcosa che è successa se è successa io come ho detto l'altra volta non lo so e non voglio entrarci è successa a settembre agosto settembre ed è uscita a novembre però dalla colpa agli altri sono stati gli altri hai paura eh comunque Lucifera sì è facile piangere perché tua figlia insegna tua figlia potrebbe aprire una scuola di recitazione come si piange era in macchina con l'ex fidanzato di eh sua figlia che lo trattavano come eh doveva fare anche quello lo schiavetto manca ancora era appoggiata con come fa a fare le scene da là si capisce quanto falsa sei e noi dovremmo crederti su una gravidanza su un bambino su un bambino manca ancora tanto no perché non sto bene e poi invidio si ferma scusate un giramento di testa cos'era le budelle che c'era l'aria che girava e stavi per cagare poi fa finta che senza Giuseppe lei ce la fa lo stesso perché è saputo praticamente evitare una vite col cacciavite vedete ce la faccio lo stesso e faceva apposta tirandosi su la maglia per far vedere che si era fatta male di proposito sul braccio darai anche tutte queste prove alla televisione eh no perché ti ricordo che quando tu farai una cosa del genere senza che nessuno faccia niente sarà la televisione stessa che indaga prima di pubblicare una storia giustamente indagano su chi l'ha inviata o chi l'ha rifletti cinghialona rifletti e comunque eh ciocciolo scappati di casa siete voi due voi due pezzenti che avete debiti con tutti continuate a chiedere soldi e poi spendete per scarpe chiara ferragni di qua i trucchi e poi dice lei ho una pelle bella perché non mi trucco ma ti sei vista in primo piano che hai nella pelle la mia grattugia è più liscia di te ma hai visto che pelle di merda che hai prima di spendere e spandere voi potete andare a comprare tutti gli ignomi eh villaggi di Natale quando avete saldato i debiti compreso fotografo eh Dennis e chi altri avanza soldi da voi compreso Marco che non gli hai più dato vabbè 30 40 euro però sempre suoi vabbè che ora è 10 e mezza c'è non ho parole non ho parole scappati di casa ma vai a lavorare e lui dice sto già lavorando ma cosa stai lavorando ma ti sembra un lavoro quello di apparire in live zozzo lurido non sai di cosa parlare non sai cosa fare anche sul video amore cosa faccio amore devo sbloccare questo amore non sai montare i video non li sai editare non sai scrivere i titoli non sai leggere non sai parlare quale sarebbe il tuo lavoro esattamente sporcolo qual è il tuo lavoro sporcolo quell'altra che durante la live che ha detto cos'è la la resa dei conti siamo più di mille persone sì per vedere le tue sparate cosa dicevi appena hai smesso hai visto come sono calati gli spettatori e hai visto quante visualizzazioni che avete vabbè dai vi auguro un buon weekend ah un'altra cosa io non lo so perché per carità di dio io non lo so però quello che ha detto fate riguardo alla monetizzazione che anche se ce l'hai non prendi soldi cara signora lucifera e caro signor zozzolo è vero perché io ho la monetizzazione attiva ma non ho nessuna carta collegata con ad sense ed è vero anche se passano le pubblicità perché tante volte mi dimentico e non tolgo le vabbè perché devo andare su youtube premio vabbè io tante volte faccio il video lo carico e boh io non ho la monetizzazione cioè ce l'ho ma non percepisco mezzo centesimo per cui se fate ha detto così che nemmeno lei ha una carta collegata anche se passano mille pubblicità per fortuna che lavori che questo il tuo lavoro dovresti essere informata io lo dico io sono ignorante in materia in materia di youtube casini perché la mia intelligenza grazie dio per cui tu che è il tuo lavoro dovresti essere super informato ma siccome per te il canale di suez è il canale di youtube ignorante e per te primo levi è un cantante neomelodico anche per l'altra carona e allora qua mi ritiro alzo le mani comunque è vero perché anche io possono passare 5.000 pubblicità ma non percepisco niente perché non possono pagarmi ti arrivano i messaggi pagamento cioè che non ci sono pagamenti perché devo collegare una carta dovresti saperlo poi dice quell'altra e beh cosa c'è di male se paghiamo noi possiamo pagare come vogliamo le tasse e no ciccia no vabbè quello che volevo dire l'ho detto c'è rimango sempre più sconcertata che avete ancora la faccia di offendere le persone sono hater di merda ma io vi vi c'è c'è compresa me c'è c'è no perché è brutto dire così è un favore un consiglio c'è ma perché perché per un mese un mese solo perché non scrivete non li guardate quindici giorni che è più facile dai e così vediamo gli hater di merda ci arrestano solo le persone affezionate praticamente quelle persone che si sono iscritte all'inizio che gli hanno permesso di arrivare alla monetizzazione quelle vere che saranno duemila, duemila e cinque infatti zozzolo che essendo il consorte il principe consorte dovrebbe avere se cioè se io sono super affezionata a te chiara cioè logicamente ti sposi innamoratissima del principe dagli occhi azzurri e delle mutande marroni mi scrivo automaticamente perché fate video insieme è tuo marito stessi canali quindi come mai tu hai 87 mila qualcosa di persone comprate e lui invece ne ha comprate solo 24 24 mila come mai come mai come mai come mai il canale tico 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 come mai da 5 mila qualcosa cresce perché dopo anni che non fai video perché logicamente non ti frutta come avevo detto io all'inizio io so per certo che il canale ASMR deve rilassare non puoi avere pubblicità non puoi avere sono entrate due api io sono martire delle mosche io non posso aprire io vorrei capire chi ha qualcosa c'è una casa qua a 50 metri si chi è un po laio vabbè come mai cresce tico 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 vabbè comunque pian piano pian piano vedrete che la gente si sveglia tutti tranne i follower comprati perché quelli chissà chi sono chissà dove sono vabbè un bacio e alla prossima ciao